Il presidente della provincia Camillo D'Angelo attacca la regione per la mancanza del certificato antincendio per lo storico edificio di Via Delfico a Teramo, dove si trovano, oltre alla sala polifunzionale della provincia, la biblioteca e uno spazio destinato a convegni e altre iniziative. Una struttura molto frequentata in particolare da studenti e da persone che partecipano agli eventi organizzati all'interno dello stabile. Certamente un problema sollevato dalla provincia mesi fa, prima dell'estate, per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi. La provincia è in comproprietà su quell'immobile, attendevamo dalla regione l'affidamento d'incarico per rinnovare questo certificato e consentire la piena friabilità e sicurezza secondo le normative. Durante questo periodo ci siamo attivati anche per rinnovare quella che è la nota sala polifunzionale, adesso ormai siamo arrivati anche alla fine di questi lavori e siamo in procinto di fare l'inaugurazione, però purtroppo ancora non abbiamo un cenno di riscontro dalla regione. Lo spazio di proprietà della provincia dunque è destinato a restare chiuso nonostante il completamento dei lavori di rimessa a nuovo, proprio perché manca il certificato antincendio che sostituisca quello oramai scaduto. Certo per noi la struttura ad oggi è chiusa, non è che la chiuderemo ma è già chiusa perché di sicuro non possiamo far accedere le persone in una struttura che non è idonea e non ha i certificati di prevenzione di incendi attivi, quindi sicuramente continuerà ad essere chiusa. Un passaggio ordinario, nulla di particolare e sicuramente bisogna attivarsi per avviare quelle procedure tecniche e ottenere questa autorizzazione. Non essendoci questo certificato la regione come fa a portare le persone sopra? A nostro avviso la regione dovrebbe chiudere l'intero immobile, cosa che ad oggi non ha fatto, non comprendiamo come, ma è una responsabilità soggettiva della regione Abruzzo.